buongiorno a tutti buongiorno a tutti altro servizio di onda 2 tv oggi ci occupiamo di una parte del paese molto importante che è piazza gesualdo ovvero sia l'arrenazzo conosciuto dai mazzarinesi sia di mazzarino che dai mazzarinesi nel mondo l'arrenazzo vogliamo un po capire meglio perché si chiamasse arrenazzo che cosa c'era in questo posto strategico della città dove confluiscono sette strade sono sette le strade che confluiscono proprio qui al punto centrale dell'arrenazzo abbiamo un anziano signore si chiama vincente gaetano abbassiamo la mascherina così parla meglio vincente gaetano di quanti anni 93 minzo 93 anni e mezzo pensato un po e se non è lui a darci alcune notizie riguardo questo arrenazzo penso che sia la persona più adatta perché lo chiamavano l'arrenazzo come ieri a cannavota perché io c'era un vuoto e le case che costruivano piavano l'arena e ci fecero un canalone di acqua con le petre messe a così non capisci come erano a frubici a piavano l'acqua e l'arena e manteneva quindi a quanto pare io sono stato io sono stato un tecnico comunale qui insomma era spianato però esisteva questo questo cunettone in pietra questo cunettone che era un manufatto artistico in pietra che raccoglieva le acque piovane della parte alta del paese che andavano poi ad asfociare nel vallone del canale a valle mentre a monte del bar 24 ore che c'era? c'era ovunico che c'erano le carrette o le persone che camminavano si venivano alloggiare e quindi c'era questo ovunico e c'erano le carrette ma le carrette di chi erano queste carrette? le persone delle persone avevano amici che avevano a caricare di fulmento di fave di urio che se ce ne avevano o portavano come se portavano a gelo portavano come non avevano più bisogno quindi anche forestieri commercianti forestieri? commercianti forestieri erano che venivano a caricare di fulmento erano tempi amici videoascoltatori nei quali si commerciava il grano, le fave, l'avena, l'urio, l'orzo insomma pure l'olio, questi erano terreni con la vocazione estensiva quindi il grano la faceva da padrono, fulmento erano le prime cose del mondo per vivere, fave e fulmento erano cose per vivere quindi a quanto pare venivano questi commercianti dai paesi vicini ori arrivavano qui o funnaco a ridosso del bar 24 ore e qui poi caricavano questo frumento che la gente vendeva e poi se ne ritornavano nei loro paesi un menzano il mezzatro che funziona aveva? un menzano era uno che aveva una statia a bacchetta aveva una statia a bacchetta che pesava ogni sacco, ogni sacco con un furcone, ci metteva uno che dava, uno che dava con un furcone e spingeva che pesava e poi all'orto ci consegnava tante sacche baravano, il peso era perfetto? no, il peso perfetto, quando non volevano rubare o quando portavano una bacchetta farsa ma siccome stavano a buscare il pane le persone allora un menzano aveva licenze non è che senza licenze faceva un mediatore certo, certo quindi un menzano misurava il giusto, pesava, pesava il giusto poi i carretti sparirono e arrivò il tempo delle lambrette le lambrette, vennero lambrette, camie ma tanno un ingegnere, nelle lambrette io ho qualche camie uno ne mette la Madonna e l'altro ne mette il Signore lei si chiama Vincente? Gaetano Vincente Gaetano da Mazzarino se dovesse mandare un messaggio a quanti la stanno vedendo nel mondo casi Mallarnazzo ma ci stanno vedendo nel mondo, in tutto il mondo com'è Mazzarino oggi rispetto a ieri? come la trova? ossia che ha una certa età che è anziano Mazzarino è come un periodo d'epoca è troppo narrito e perchè narrito? e perchè il commercio non c'è neanche ora il fermento vale poco si sta andando a fare mandorlete perchè il grano non fanno più di grano pare che è di grano ma di quale grano che è? non si sape e che ci vorrebbe per risolvere l'economia di Mazzarino se conto possiamo? perchè mentre è in circolazione il commercio perchè per i miei non c'è tant'ecchia di commercio ma per l'altra cosa non c'è bella questa riflessione, molto bella che cosa si augura ossia nella vita? che cosa si spetta nella vita ossia? io mi aspettavo che per la nuova gioventù venisse qualcosa di buono poi non lo sapessimo e che cosa si spetta? che aveva 93 anni? che cosa si spetta? di vivere ancora tanti tanti anni? io mi aspettavo di vedere qualcosa fino a che sono qua e poi non lo so cosa succede tanti auguri allora tanti auguri e così concludiamo questa bella intervista col signor Vincendi di Mazzarino che ci ha delucidato e ci ha dato notizie in capo l'Arnazzo di Mazzarino grazie siamo noi di ONTA2TV grazie a tutti grazie signor Vincendi e buona vita buona vita grazie